Musica Dalle colture orticole della bassa modenese siamo qua in montagna, siamo in località Benedello di Pavullo per esattezza questo luogo è Molino di Rapina, sono con Maurizio Vignodini che è un giovane imprenditore agricolo vedete alle spalle c'è anche l'agriturismo ma partiamo invece da quello che si produce in montagna e le difficoltà invece che ci sono a differenza della pianura fare agricoltura in montagna Maurizio mi dicevi che questa è un'azienda che è partita dal nulla nel fatto che qua erano calanchi, era tutto incolto ed è stato recuperato parecchio terreno, allora innanzitutto raccontami la storia di questa azienda Ma allora l'azienda nasce dalla diciamo dalla volontà di recuperare quello che era il podere, il vecchio podere dove poi è nato mio padre e da cui diciamo è partita tutta la storia poi dell'azienda, prima dell'azienda agricola e poi dell'agriturismo, dalla passione della nostra famiglia per questo luogo e per i prodotti che questo luogo una volta produceva e che abbiamo cercato di rendere, di riattivare Complessivamente quanti ettari sono questa azienda? Sono 50 ettari, 50 ettari di terreno che sono il frutto del riacorpamento, del vecchio podere diciamo dei miei nonni più l'aggiunta di altri terreni che abbiamo poi acquistato successivamente per dare corpo a un'azienda che avesse anche un senso dal punto di vista puramente agricolo Ecco, allora cosa avete pensato di fare? In questi 50 ettari io vedo che qua è una zona anche aspra per certi aspetti ci sono calanchi, bosco, però c'è anche seminativo, ho visto che insomma c'è frutteto, vigneto Ma sì, allora la prima difficoltà è stata proprio quella di cercare di recuperare diciamo la coltivabilità dei terreni che erano completamente abbandonati da decenni diciamo, quindi ritornare a produrre e a fare agricoltura in un luogo dove sostanzialmente l'agricoltura non c'era più quindi prima difficoltà rendere questi terreni o tentare di rendere questi terreni produttivi poi è chiaro che ci sono zone dell'azienda, essendo 50 ettari è una estensione abbastanza importante ci sono zone dell'azienda che hanno più vocazione agricola e dove certe determinate culture che sono poi quelle che vengono utilizzate anche in agriturismo hanno più senso e altre zone dove il recupero è dato sostanzialmente dalla produzione di foraggio e dalla messa in sicurezza del territorio perché l'altro vero aspetto e l'altra difficoltà di queste zone qui è il fatto di tenere diciamo il terreno e questo è molto importante appunto la presenza dell'agricoltore perché comunque consente di regimare, è un presidio sul territorio insomma un'operazione difficile però insomma ben riuscita io vedo un vigneto con anche un impianto di irrigazione perché anche qua in montagna come in pianura insomma quando arriva l'estate la siccità si fa sentire bene certo qui siamo in altitudine diciamo di prima collina che di montagna siamo intorno ai 300 metri, 350 metri di altitudine e l'estate si fa sentire noi abbiamo la fortuna di avere la possibilità di approvvigionarci di acqua e poi di conseguenza le culture che ne richiedono, che ne hanno necessità sulle culture che ne richiedono, che ne hanno necessità abbiamo fatto impianti di irrigazione in modo da poter arrivare anche al prodotto quel vigneto è un... che varietà di uva coltivate? lì sostanzialmente è l'ambrusco quasi per intero l'ambrusco poi vedo anche insomma avete un po' di frutteto avete un po' di orto che molto in funzione dell'attività agrituristica che andremo a vedere dopo diciamo che quello che è la produzione soprattutto al di là di qualche varietà di mela e di pera che abbiamo cercato di recuperare dalla tradizione cioè tutte mele quelle locali magari che hanno molta rusticità quelle che erano state abbandonate perché hanno una bassissima produttività però hanno dei sapori che sono diversi dalle mele che si vanno ad acquistare quindi tutte varietà di pere e di mele antiche poi abbiamo fatto anche qualche tentativo sulle pesche e sulle albicocche che stiamo cercando di recuperare ma siete ancora in una fase esplorativa diciamo così sì, ma quello che riguarda la frutta questa non è una zona che abbia una grande vocazione quindi al di là, ripeto, del recupero di varietà antiche poco altro si può fare ma quello che è importante è che qua se fino a qualche anno fa non c'era nulla era tutto abbandonato, insomma si è recuperato un territorio e quindi con una presenza anche umana beh, tutto nasce da lì dalla volontà di ridare vita a questo borgo e a questa zona che sostanzialmente era completamente abbandonata quindi tutto anche l'investimento anche dal punto di vista umano nasce dalla volontà di recuperare questa borgata e questo territorio Maurizio ci hai dato la descrizione dell'azienda io adesso andrei a vedere veramente com'è venuta questa ristrutturazione di cui abbiamo parlato fino adesso molto bene prevedo intanto alle prese tuo papà Marino con gli animali da cortire di cui abbiamo parlato prima è qua che... buongiorno Marino buongiorno allora insomma cosa si fa in giacca e cravatta davanti a questi pulcini qua? in giacca e cravatta questo è un abito che ho messo per l'evenienza per oggi per presentarmi diversamente di fronte allora mi diceva Maurizio che qua c'è un valore effettivo perché questa... alle nostre spalle c'è un edificio che era... è stato adatto i natali a te quindi insomma sei nato qua quindi da lì anche l'idea di ricostruire e di ripristinare tutto quanto uno sforzo economico ma anche insomma motivato dal fatto che insomma hai lasciato un affetto qua degli affetti sicuramente qui c'è una grande motivazione affettiva io qui sono vissuti i miei nonni sono vissuto mio padre, i miei zii che poi hanno nel tempo hanno cercato lavoro altrove perché le condizioni perché questo podere non dava la possibilità a tutti di un giusto sostentamento ma così è successo qui in questo borgo come è successo un pochino come tante famiglie insomma del nostro paese come tante famiglie con Maurizio magari entriamo perché Adriana che è tua moglie è diciamo colei che di fatto cucina no? e quindi quella che è in agriturismo è il pezzo forte no? come si suol dire quindi l'andiamo a trovare all'interno dell'agriturismo ecco qua, buongiorno Adriana, buongiorno allora abbiamo parlato prima con Marino e Maurizio insomma di tutto quello che si produce eravamo ansiosi di vedere come si trasforma in tavola questo allora innanzitutto il fulcro dell'agriturismo è la cucina in questo caso la cuoca, in questo caso sei tu allora cosa proponete nel vostro agriturismo? sì, allora noi abbiamo come produzione il farro che è abbastanza innovativo dal quale ricaviamo anche la farina facciamo pane di farro, focacce di farro il mais dal quale ricaviamo la farina di mais per la polenta e la farina di grano serve per fare le crescentine il pane l'abbiamo già detto le tagliatelle o qualsiasi altro tipo di sfoglia tirate rigorosamente con la cannella ecco questo è un dettaglio molto importante che non è da tutti insomma e poi io la uso anche per fare tutti i vari dolci anche se è semi integrale diciamo come farina io la utilizzo per fare anche tutti i vari dolci poi abbiamo le marmellate sempre fatte con la nostra frutta fatte da me pesche, ciliegie quello che è di stagione quello che è esatto, dà la stagione e anche l'annata perché sono annate che alcuni frutti non vengono e anche i sottaceti in questo caso abbiamo delle melanzane in agrodulce oppure poi faccio le zucchine e tutte queste cose qua vedo anche un bel salame qua il salame è sempre prodotto da noi poi ve lo farò assaggiare lo diamo come antipasto con il nostro pane e focacce, insomma tutte cose che poi vi farò vedere anche successivamente siamo quindi quasi a conclusione della nostra puntata intanto insomma qualche languorino è arrivato ci salutiamo con i nostri amici telespettatori ringrazio Adriana, Marino e Maurizio grazie per averci tenuto compagnia fino adesso con queste splendide cose vi diamo appuntamento la prossima settimana sempre su A Cielo Aperto ricordatevi che c'è il nostro profilo Facebook e chi volesse rivedere la puntata può cliccare sul sito acieloaperto.com grazie e arrivederci guardatevi che c'è il nostro canale Grazie a tutti.